Si intitola Federica Pellegrini Underwater ed è un vero e proprio film documentario uscito il 10, 11 e 12 gennaio 2022 prodotto dalla Freemantle che va a documentare in maniera fedele proprio la bella campionessa, ossia la famosa tuffatrice Federica Pellegrini. L'avvicinamento al Tokyo 2020, la finale nella gara dei 200 metri si è libero, obiettivi vinti e risultati importanti ottenuti con grande e begarbata bravura da parte di Federica Pellegrini. Ma Federica Pellegrini Underwater racconta una storia che parte da molto lontano, da una ragazza giovane, semplice e umile che è riuscita in poco tempo a raggiungere risultati importanti nell'ambito del nuoto. Di recente è stata a Sabaudia, si è fatto un bel tuffetto nell'acqua, nelle fredde acque del mare di Sabaudia. Nonostante ciò la bella Federica ha ottenuto successi importanti uno dopo l'altro, uno dietro l'altro. È riuscita a mettere in campo o meglio in acqua impegno, fatica, sagaccia e soprattutto tanta tanta grinta, passione e voglia di vincere, cosa che è riuscita a fare con Gaudia Competenza. Le gare, il materiale, le vittorie, i videonetiti, i suoi sordi, tutto presente in questo film documentario intitolato Federica Pellegrini Underwater. Sott'acqua, sotto l'acqua. Un film documentario unico, spettacolare, celebrativo, ma anche emotivo, anche personale, anche intimo, che va a documentare in maniera completa la vita di Federica, ma anche tutte quelle medaglie che è riuscita a ottenere, una dietro all'altra. Complimenti a Federica Pellegrini, tutti a vedere Federica Pellegrini Underwater il 10, l'11 e il 12 gennaio 2022 nei cinema italiani. Ciao a tutti e complimenti Federica.